Un po' d'attenzione perché come quartiere 2 Vi ricordiamo che l'uso della mascherina è obbligatorio dentro la festa Un po' d'attenzione perché come quartiere 2 Le società che sono presenti in questi ormai due giorni, oggi e domani Ringraziamo anche la protezione civile che ci aiuta a mantenere i varchi e l'ordine E ringraziamo anche la misericordia di Campo di Marche